Continuano gli interventi per rendere belli i luoghi di aggregazione della città. Siamo allo Zeiss, qualche giorno fa abbiamo visitato il centro anziani dove sono stati svolti dei lavori e dove gli operai stanno lavorando ancora sull'impianto di riscaldamento e sui servizi cedici. Ora siamo nel Parco Asia, l'anello verde che circonda lo Zeiss è un polmone verde per tutta la città. Anche qua interventi per rendere più bello questo luogo. Vengono rifatti i percorsi, panchine, tavoli, cestini e giochi. In particolare giochi per bambini e in particolare giochi per bambini con disabilità. Continua quindi il lavoro in collaborazione con la Fondazione Arvedi Buschini per rendere accoglienti i luoghi di aggregazione della città per tutti, per anziani, per bambini e per famiglie.